Salute a tutti! Il mio nome è Matteo Prometeo e benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 17 dicembre 2021 e la frase del giorno è questa. Lasciate che ve la legga. I momenti belli non li senti quando li vivi, ma li rimpiangi quando li ricordi. A quanto pare non c'è dato sapere neanche se sia un Gaetano o una Giorgia. Io ignoro chi sia questa persona, non ho fatto una ricerca su internet perché non è importante, perché una cosa è vera indipendentemente da chi la dice. È sempre comunque meglio informarsi per poter contestualizzare, questo è assolutamente vero. Però ecco, è una rubrica fatta di ispirazione questa qui, sono vlog filosofici fatti di ispirazione e quindi i momenti belli non li senti quando li vivi. Ma che cacchio vuole dire? La felicità è nell'attimo presente e che abbiamo detto tutto quest'anno in una rubrica filosofica. E dove dovrebbe essere la pubblicità, la felicità se no? Ecco, la pubblicità che c'entra. I momenti belli non li senti quando li vivi. Ma allora che sono? Cioè, scusate, che vuol dire? Ma li rimpiangi quando li ricordi? Secondo me questa frase è stata detta con un moto di poesia, in un attimo di totale rimpianto e nostalgia, perché veramente non riesco a capacitarmi. I momenti belli non li senti quando li vivi e allora non sono belli. Cioè, che vuol dire un momento bello? Chiaramente non si parla del bello estetico, anche se poi il bello estetico è bello perché porta pace, serenità, felicità, allegria. Anche commozione, voglio dire. Cioè, io penso a quel bel momento in cui i nonni guardano i neonati nipoti e si commuovono. È un bel momento e i bambini sono tutti belli, voglio dire. Cioè, è una questione anche geometrica. Sono pondi, sono paffuti e poi si piange di commozione, si è diventati nonni, il ciclo della vita, è il re leone, è una giostra che va da sé. E io non mi capacito come un momento bello, momenti belli. Ma che accidenti vuole dire la frase di oggi? Non li senti quando li vivi, ma li rimpiangi quando li ricordi. No, vabbè, lasciando che è una sciocchezza, ok? Cioè, detta così, è un'immane sciocchezza che G. Paletta, forse abbiamo scoperto l'identità di anonimo, ho visto le sciocchezze che certe volte anonimo con cui se ne è uscito, ma vabbè, sto scherzando, certe frasi anonime sono state bellissime, ovviamente. Però ecco, piuttosto, volendo cercare la filosofia all'interno, non lo so, della tifoseria calcistica, per non dire il pelo nell'uovo o lago nel pagliaio, un senso, cioè, volendo interpretare correttamente, volendo trovare un senso, un'interpretazione, la troviamo, lo facciamo, c'è già, eccola. Ecco, quello che ci sono e ci vuole dire G. Paletta, fondamentalmente, ok? Che non sia un'immane cavolata per come obiettivamente presentata, ok? Quello che ci vuole dire è che quando un momento lo viviamo probabilmente non ha... Quello che ci vuole dire è che nel futuro si diventa più saggi e quando si è più saggi e si ricorda il passato, la saggezza ci fa vedere una bellezza che in quel momento non eravamo capaci di cogliere. E quindi, ecco, quando siamo nel futuro e siamo più saggi perché il futuro è il futuro e il futuro e il tempo ci ha reso più saggi, col suo passare, si spera, perché neanche questo è vero, anzi, figuriamoci, cioè, se no, ok, boomer che sarebbe, no? Cioè, che vorrebbe dire. Però, ecco, diciamo che più o meno tutti col tempo diventiamo più saggi e il tempo non porta solo soggetta ma porta pure il ricordo e la nostalgia e allora, appunto, lo ripeto, volgiamo il nostro sguardo al passato, riviviamo dei ricordi che magari non sono stati molto piacevoli ma vedendoli con una nuova ottica, con una nuova esperienza, con un nuovo occhio, con una nuova saggezza riscopriamo una bellezza nel ricordo che non avevamo saputo cogliere nell'attimo quando l'abbiamo vissuto. Ora, detto così, Gipaletta, io ti farei complimenti, ma non l'hai detto così! E allora io che devo dire? No, vabbè, ecco, per dire che alla fine le cose sono sempre soggettive, sono sempre soggette a un'interpretazione e questa interpretazione è figlia della saggezza del momento. E quindi poi, ovviamente, entriamo in quell'ambito della letteratura dove ci possiamo anche dire ah, sai, non è neanche importante quello che dice l'autore, l'unica cosa importante è ciò che comprende il lettore o lo spettatore o il fruitore in generale dell'arte letteraria o dell'arte in generale, che dir si voglia. E quindi, ecco, non è neanche importante il messaggio dell'autore perché in fondo si può interpretare il messaggio anche in un modo tale che l'autore non intendeva dare. Ma è forse falsa quella interpretazione? O, ecco, magari scopriamo un senso nelle parole dell'autore che l'autore non aveva visto ma che obiettivamente le parole hanno perché il vocabolario vuol dire quello. E quindi, ecco, vedete, alla fine le interpretazioni sono tutte soggettive, ma anche il fatto che la soggettività sia soggettiva può diventare un'interpretazione soggettiva. E lì nasce, all'interno della soggettiva soggettività, nasce l'obiettività. L'obiettività è semplicemente un'interpretazione di soggettività condivisa e per questo esiste, non ha importanza, perché l'importanza è semplicemente vivere l'attimo presente con pace e soddisfazione e l'attimo presente ovviamente non lo si può spendere e buttare in mezzo a queste interpretazioni, a meno che non siano divertenti e soddisfacenti i giochi mentali, modi per iogulare e nellare le proprie forme mentali. E allora sì, è un gioco ed è divertente. Mi cari spettatori, mi cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video, per il resto io come sempre vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!